Buonasera amici telespettatori, nuovo appuntamento con Spazio Volle, l'ultima puntata prima della sosta pasquale perché vi dico fin d'ora che martedì 18 aprile non saremo in onda ovviamente e riprenderemo dal martedì 25 di aprile per questo rush finale con le ultime tre giornate della regular season e poi ovviamente con i playoff e di play out. Purtroppo è finita la stagione della top volley latina così come quella della bios index a Sora, la top volley latina che pur lottando con i denti ha perso 3 a 1 a Piacenza a gara 3 del quarto di finale playoff challenge e quindi lascia la competizione Piacenza va alle final four di questa di questo playoff challenge che dà la possibilità a chi li vincerà di disputare, avere il diritto di disputare la challenge cup del prossimo anno. Di questo parleremo con il palleggiatore Matteo Pistolesi della top volley. Ciao Matteo. Ciao grazie, invito. Una presenza particolare perché ovviamente Matteo Pistolesi siamo stati abituati a vederlo entrare soprattutto nel giro al servizio al posto magari di Gitto, di Rossi o di Quintana invece Bagnoli lo ha chiamato nel quarto sette a metà sette e si è recavata egregiamente ma ovviamente ne parleremo diffusamente con lui al suo fianco. Il tecnico della Giovolle Aprilia, Tonino Federici. Ciao Tonino. Buonasera, buonasera grazie. Vicinissimo ad un traguardo importante con la gara da recuperare quella con il Vollerò Casal De Pazzi. Arrivare a Pallofo significa anche recuperare qualche infortunato e poi sicuramente affrontare questa postseason qualora arrivasse perché è giusto dire così in attesa della matematica. So che non sei scaramantico però tu sei un matematico e quando arriva ne parleremo. Però recuperare atlete sarà molto importante in vista della postseason? Sì sarà molto importante recuperarle sia dal punto di vista psicologico che anche dal punto di vista proprio tattico perché l'allenamento comunque soffre di questa mancanza di giocatori e poi anche la gara soffre della mancanza di giocatori perché in questo momento non abbiamo cambi quindi l'unico cambio che abbiamo a disposizione è il secondo palleggiatore che è un po' il jolly della situazione. Mi ha giocato anche la penultima gara da martello ricevitore se l'è cavata alla grande e è riuscita a portarci alla fine verso l'obiettivo e a vincere una partita 3 a 0 contro Volley Group. Quindi in vista dei playoff sì speriamo di ritrovare tutte quante le atlete in forma per disputare un rush finale di stagione molto positivo. Matteo rompete le righe no con un po' di dispiacere? Sì sicuramente non fa piacere finire prima di altre squadre la stagione nel senso che secondo me l'obiettivo tra gli altri dovrebbe essere quello di ogni anno di finire per ultimi quindi che se nel caso delle quattro squadre che fanno che lottano per lo scudetto e vince lo scudetto nel nostro caso era vincere questo playoff di challenge purtroppo non ci siamo riusciti secondo me piacenza meritato ovviamente quando una serie finisce con tre vittorie a zero non si può dire diversamente anche se devo dire che noi ci siamo difesi secondo me soprattutto in gara 1 e in gara 3 secondo me è gara 2 quella che abbiamo giocato peggio infatti il primo set a parte tanto il primo set poi siamo calati drasticamente secondo me anche la gara che loro hanno poi giocato meglio dove la loro diagonale si è dimostrata una delle diagonali più forti del mondo quindi questo è fuori discussione. Peccato perché siamo andati vicini a vincere gara 1 e vincendo gara 1 sopra 2 a 0 probabilmente la serie avrebbe preso una piega diversa siamo trovati un po' con l'acqua alla gola a rigiocare gara 2 non ci nascondiamo non possiamo nascondere che non siamo non eravamo più la squadra che eravamo a febbraio quando eravamo lanciati in forma per raggiungere l'obiettivo playoff siamo un po' calati mentalmente e fisicamente abbiamo avuto qualche problemino fisico e poi quando giochi contro una squadra come Piacenza appena molli un attimo ti mangiano. Il tempo di magari di così indicare Marshall magari come tra i peggiori in campo come magari è successo a Latina ed esce fuori il colpo del campione mi sembra che anche domenica scorsa a Piacenza abbia messo giù gli ultimi due punti con un contrattacco e un muro. Intanto andiamo proprio a Piacenza e vediamo come Latina si è giocata questa gara 3. La stagione della top volley Latina è finita la formazione di Daniele Bagnoli pur lottando ad armi pari contro la blasonata Piacenza perde anche gara 3 dei quarti di finale playoff challenge viene eliminata la soglia delle final four dove approda la formazione di Alberto Giuliani che ha vinto 3 a 1 non senza faticare chiudendo così la serie ed evitando una insidiosa gara 4 che si sarebbe giocata giovedì al Palabianchini con eventuale bella ancora a Piacenza la domenica di Pasqua. Latina dopo aver rimontato Milano negli ottavi di finale ha da rimproverarsi per non aver sfruttato le occasioni che gli sono capitate in gara 1 con due match point sciupati e dopo il 3 a 1 per i Piacentini in gara 2 al Palabianchini gli emiliani si sono ripetuti in casa con lo stesso punteggio. Grande emozione prima dell'inizio della partita con un tributo alla carriera per Ofenomeno Samuele Papi e per Isto Slatanov che hanno deciso di appendere le scarpe al chiodo. Tornando alla partita la top volley latina è stata combattiva fino all'ultima palla nel primo set grande equilibrio poi Resuelo e Alletti davano la lungo decisivo soprattutto con il servizio dell'opposto 25-17. Latina non si piega e schizza via nel secondo parziale 14-8 ma Piacenza prova a tornare sotto nel punteggio e grazie ai muri di Erisuelo e di Martino e Lese di Clevenot riapre la frazione. Secondo set che vive il momento clou sul 23 pari a causa di un cartellino rosso alla panchina dei Pontini. La formazione ospite è brava però a disunirsi e grazie all'errore di Clevenot pareggia i conti con il 26-24. Daniele Bagnoli manda in campo Pencev il quale con un esi di Maurootti porta Latina avanti 15-10. La partita vive su continui capovolgimenti di fronte Marshall e Gitto sono i protagonisti del botta e risposta fino a quando il solito Hernandez fa la differenza per il 25-23. La formazione Pontina è a un bivio e sente la pressione. Piacenza vola sul 7-2 anche in virtù degli errori della formazione ospite. A sorpresa Bagnoli cambia la diagonale inserendo Pistolesi e Strugar e Latina si fa nuovamente sotto tanto da costringere Alberto Giuliani a chiamare timeout sia sul 13 pari che sul 22-22. Al rientro in campo c'è un fallo di Magnà che sembra dare speranza di tie-break a Latina ma è Marshall a chiudere la partita con un contrattacco e un muro per il 27-25 e permettere così a Piacenza di andare alle Final Four per conquistare un posto per la Challenge Cup del prossimo anno. In casa dopo volle Latina è già tempo di proclamare la prossima stagione. Insomma Matteo come detto ancora qualche un pizzico di sfortuna dobbiamo anche dirlo insomma un po' di infortuni nei momenti topici della stagione mi dicevi anche Ishikawa domenica bloccato quindi un'arma in meno per Daniele Bagnoli. Sì sicuramente ultimamente Yuki era diventato un po' nella girandola che abbiamo sempre più o meno avuto nell'alternanza di posti 4 è diventato un po' il punto fermo diciamo quello che bene o male era sempre confermato tra i due che partivano e sicuramente avevamo preso anche ultimamente le ultime due o tre gare l'abitudine di giocare con lui e Maruotti quindi ci hanno creato un po' di equilibri e lui che dà una grossa mano sia davanti che in seconda linea perché è un giocatore abbastanza completo e soprattutto al servizio dove abbiamo costruito qualche break con lui nelle partite precedenti quindi sicuramente un po' è mancato anche se devo dire che con i posti 4 abbiamo sempre avuto ricambi perché eravamo abbastanza completi. È un peccato anche per lui perché ci teneva sicuramente a giocare quella che poteva essere l'ultima partita per lui in Italia per questa stagione speriamo che ritorni l'anno prossimo qui perché comunque è un ragazzo molto interessante che ha tantissimo seguito e tanto entusiasmo intorno che non possono che far bene a in generale il campione italiano. È chiaro ed è contagioso anche con i compagni. Io Matteo ovviamente abbiamo visto insomma che Bagnoli ti ha chiamato a metà quarto set al posto di Sottile erano abituati a vederti ovviamente nel cambio al servizio come abbiamo spesso ripetuto nel quarto set non è stato un contentino e questo lo dobbiamo dire cioè si è stato chiamato in causa per insieme a Struca per rimettere le cose a posto e qualche modo la vostra parte l'avete fatta. Allora mentre ne parliamo ti mostriamo quello che la nostra regia ha isolato proprio con il tuo ingresso in campo e qualche e qualche tuo intervento insomma in quel momento lì. Te l'aspettavi innanzitutto? Ma come ti dicevo prima in fuori onda non aspettarsi o no uno in generale cerca sempre di allenarsi per per giocare quindi per farsi trovare pronto. Nel mio caso è un po' più difficile perché devo riuscire a farmi trovare pronto quando può essere anche solo per una battuta magari sul 23 pari o una cosa del genere quindi sicuro non è non è semplice però quando mi ha chiamato per entrare in campo sono stato molto contento perché ho avuto l'occasione di di mettermi alla prova soprattutto quindi sono contento di essere uscito a dare il mio contributo peccato che non è bastato per poi vincere il set insomma. E adesso si aprono scenari importanti no? Voi diciamo nelle prossime ore saluterete la società ovviamente per questa stagione c'è un brindisi un aperitivo con tutti i tifosi e poi si 22enne come te che è vissuto all'ombra di Daniele Sottile medaglia d'argento alle Olimpiadi ovviamente c'è da fare una scelta importante no? Ovviamente insieme al tuo procuratore con la società ricordiamo che appunto il tuo cartellino è di proprietà della topo volley latina. Che scenari possono aprirsi e qual è la tua la tua posizione in questo senso anche se è prematuro parlarne? Ma di sicuro per poter fare una scelta bisogna avere delle opzioni quindi nel momento in cui si arriva ad avere delle opzioni è già qualcosa di positivo perché vuol dire qualcosa di buono si è fatto quindi nel momento in cui io se mi renderò conto di poter avere la possibilità di scegliere sarò già contento di questa cosa sicuramente io non posso posso dire che sei stato molto bene a Latina moltissimo sia con la squadra che in generale con la città mi sono trovato sempre bene al primo momento quindi questo senza dubbio. E se la società avrà intenzione di riconfermarmi e di darmi fiducia nel senso di continuare a puntare su di me come secondo sicuramente perché so che al momento quella può essere assoluta mia posizione in un campionato come questo al momento o in una società come questa che secondo me rispetto a tante società è ambiziosa nel senso che si sa rispetto ad altre squadre i budget sono inferiori perché quando ci sono squadre come Macerata, Trento, Modena, Perugia, la stessa Piacenza, Verona le differenze economiche poi sul campo si vedono inevitabilmente però rispetto a società questa squadra non ha mai sicuramente disegnato la volontà di competere ad alti livelli quindi la squadra che vorranno fare spero che sarà una squadra ancora competitiva magari più competitiva di quella di quest'anno per riuscire a ottenere risultati migliori se mi daranno l'occasione e mi chiederanno di rimanere io sicuramente sarò contento perché vorrà dire che ho lavorato bene e vedremo quali saranno le altre opzioni quello sarà l'albero della società e le mie sicuramente Senti Tonino, quale consiglio daresti a Matteo? Insomma 32 partite, in 30 partite come dicevamo è stato chiamato in causa per un servizio flottante che spesso e volentieri ha messo in difficoltà la squadra avversaria, proprio nell'ultima gara dall'autopo volley è stato invece chiamato in causa proprio al posto di Sottile, non conosciamo ovviamente determinate dinamiche però un ragazzo di 22 anni cosa consiglieresti tu per il prossimo anno? Il mio miglior consiglio è quello di fargli seguire il proprio istinto l'ho seguito, ho ascoltato quello che praticamente lui ha detto e molto probabilmente lui ha già le idee molto chiare e quindi avere le idee chiare a questo punto della stagione a 22 anni non è da poco quindi essere già in grado di scegliere e di decidere secondo me questo è il consiglio che gli darei cioè di fare queste riflessioni che sta facendo in maniera molto equilibrata e di seguire la propria testa senza ascoltare molti consigli dall'esterno perché poi si dice meglio in A2 o in B a giocare piuttosto che in A1 a Superlega così a vedere il campo con il cannocchiale però è anche vero come diceva fuori onda Matteo che gli allenamenti è tutta un'altra cosa ma la Superlega all'arte cotecolina poi la cosa che posso dire da tecnico è vero che manca il campo la gara ti dà delle esperienze di gioco diverse rispetto all'allenamento però se il giocatore si allena con la consapevolezza di diventare un forte giocatore il 6 contro 6 di altissimo livello della A1 è completamente diverso dal 6 contro 6 della A2 quindi ha ragione quando lui dice che la A1 è tutto un altro tipo di gioco, di campionato la differenza non è tanto nel fatto di giocare o meno è ovvio se si gioca è meglio ma nei momenti di allenamento nel 6 contro 6 se ogni giocatore riesce a migliorarsi allora vuol dire che è come aver giocato da titolare in A2 e allora buona scelta Matteo se poi posso aggiungere una cosa che mi viene in mente adesso intanto grazie del consiglio la cosa secondo me che ho visto che è importante è che da quando soprattutto è arrivato un coach come Bagnoli mi sono reso conto che sai molto spesso a volte ci sono squadre dove la divisione tra titolari di serve è nettissima un po' per il livello un po' perché magari l'allenatore ha ovviamente delle prevalenze verso quelli che poi vanno in campo a giocare perché sono poi effettivamente quelli che ti fanno vincere le partite o perdere quindi ovviamente è così però ho notato che mi sono sempre sentito per quanto riguarda me ma potrei dirlo anche degli altri c'è di un ragazzo come Strugar che ha fatto più o meno il mio stesso percorso e che Bagnoli ci ha sempre considerato ci ha sempre allenato forse ancora di più dei titolari un po' magari anche per l'età un po' perché abbiamo molte più cose da imparare e quindi questa cosa mi è servita molto perché avere la fiducia di un allenatore quando poi sei chiamato ad entrare come ero chiamato io magari anche solo per un servizio sempre su punteggi un po' da brivido è importante quindi questo sicuramente se Bagnoli sarà ancora la guida di Latina sarà un motivo in più per avere nel caso in cui io possa farlo rimanere qua magari e ricordiamo che Bagnoli spesso e volentieri ha tirato dal cilindro proprio dalla panchina la carta vincente per poi aggiudicarsi delle partite questo ne abbiamo anche dato merito c'è un rammarico no? parliamo della squadra Matteo scorrendo le 32 partite della topovola Latina la gara magari della svolta in negativo che poteva darvi speranze ancora di più di playoff Scudetto che avrebbe cambiato sicuramente la stagione ma secondo me ce ne sono tre episodi che sono un po' i momenti in cui ci siamo un po' tra virgolette persi per strada quando avremmo dovuto stringere sicuramente a Verona quando siamo andati a Verona che sulla carta era una partita dove noi tutto quello che facciamo era un di più nel senso che Verona era una di quelle squadre che si è giocata l'accesso alle semifinali Scudetto fino all'ultimo una squadra sicuramente fortissima però li abbiamo trovati in un periodo in cui loro erano veramente veramente in difficoltà dove poi hanno cambiato anche allenatore subito dopo aver giocato contro di noi praticamente quindi lì siamo stati sempre avanti per tre set su quattro non siamo riusciti neanche a portare a casa un punto che poi alla fine ci avrebbe fatto molto comodo quindi quello sicuramente poi la partita a Molfetta anche se lì devo dire che anche ripensandoci poi tornando indietro sì è un rammarico perché si vinceva 2-1 14-10 poi quello che penso sia stato il giocatore più determinante per la sua squadra quest'anno che è Sabbi ha fatto 4 ace 38 punti insomma lui penso sia stato il giocatore che ha inciso di più sulla sua squadra ha tolto ovviamente i fenomeni delle prime quattro squadre però lì il talento è più distribuito perché una squadra come Macerata quando non gioca bene cioè guardavo domenica hanno giocato gara 3 di semifinale e Soccolo ha fatto il 30% Quanto Regni ha giocato così così poi però Covar fa la partita dell'anno quindi in quella squadra è diverso Sabbi lì era stato straordinario e poi la partita a Vibo sicuramente dove abbiamo eravamo in calo psicofisico stanchi perché noi siamo arrivati a giocare contro Perugia secondo me eravamo al top della forma lì era 20 febbraio intorno Abbiamo perso anche lì 3-1 anche lì dopo che il quarto sei tra 22-20 poi a Tanasivi c'è mattuta fa due ace E' stata una costante quest'anno soprattutto la seconda parte di stagione nel momento in cui siete lì per giocarvi sette partita dall'altra parte arriva un battitore davvero coraggioso diciamo così intraprendente e vi mette in difficoltà questa è stata una costante Magnoli non si è nascosto e lo ha detto anche lui nel corso di alcune interviste Ma con il livello che c'è in Superlega è difficile nel senso che ci sono dei giocatori che sono completamente di un altro livello secondo me Penso anche a Scrimov con Milano che ha messo in difficoltà Ci sono 9-10 giocatori secondo me che sono tra i primi 15 tra i primi 20 al mondo quindi ogni domenica comunque è sempre difficile poi una volta su due facendo il conto praticamente perché sono 6 squadre secondo me quindi una volta su due gioca contro qualcuno di questi giocatori qua quando è uno solo perché poi in tante squadre sono 4-5 sicuramente poi se sono campioni e se hanno vinto quello che hanno vinto e valgono sul mercato per tutte le varie motivazioni di più di altri lo dimostrano in queste situazioni qui senza dubbio chi ha lasciato la competizione di quest'anno è anche la Biosindex Asora insomma se la topo vuole vorrà ammicarsi perché ha perso 3-2 a Piacenza poi 3-1 a Latina e 3-1 a Piacenza con parziali piuttosto alti cosa deve dire la Biosindex Asora che ha perso ben 3 tie-break contro Verona 3-2 3-2 3-2 e anche e anche nella gara che stiamo vedendo adesso era 2-7 avanti come deve sentirsi la squadra di Colucci secondo te Matteo? ma sicuramente Asora secondo me è stata un po' la sorpresa di questa stagione qui in relazione a quello che si pensava all'inizio e a quello che in realtà poi hanno fatto e secondo me loro sicuramente avranno un po' di rammarico per il momento perché quando perdi una serie 3-0 e perdi 3-2 non è mai bello il primo tie-break se non sbaglio 21-19 e in casa 17-15 quindi sempre lì sul filo però anche lì Verona adesso è senza Djuric per dire però c'è un giocatore come Kovacevic che sta facendo una stagione ha fatto una stagione clamorosa quindi anche domenica anche sabato sera a gara 3 ha fatto i 9-28 punti secondo me loro devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto secondo il mio parere poi ovviamente al momento sicuramente c'è un po' di frustrazione rammarico perché quando arrivi a giocarti 3 partite al tie-break e non riusci a portarne a casa neanche una sicuramente ti dispiace va detto che per la pala a volo sono mesi importanti sono settimane importanti perché termina ufficialmente il triennio di sperimentazione senza retrocessioni ufficialmente il prossimo anno arriverà una squadra dalla 2 quindi al momento si ipotizza una serie una superliga con 15 squadre ma è tutto da verificare si capirà se ci saranno delle deroghe per quanto riguarda la capienza dei palazzetti perché altrimenti la top vola deve interrogarsi sul fatto di giocare o meno al pala bianchini però con Tonino Federici poi da questo punto di vista sfondiamo un portone non una porta per cui cercheremo di capire quello che potrà succedere già dal prossimo campionato per quanto riguarda invece la serie 2 l'Omia Cisterna ha perso già retrocesa ha perso sul campo del Marignano 3 a 0 secondo quanto trapela anche da quello che ci ha detto Tonino in altre occasioni l'Omia Cisterna potrebbe essere ripescata e sarebbe la terza partecipazione alla serie a due molti infortuni ma soprattutto una stagione da dimenticare anche perché l'anno scorso l'Omia Cisterna aveva dato insomma quella verba in più forse da neopromossa di potersi giocare effettivamente la salvezza sul campo cosa che non è successo in questa occasione nella B maschile l'Idra Latina invece ha battuto 3 a 0 Gensano resta al primo posto Francesco De Luca non è rientrato momento ancora difficile sotto il punto di vista ne abbiamo parlato nelle ultime puntate di Spazio Volley sappiamo che Matteo tu ti sei visto hai salutato anche Quartarone insomma non voglio farti entrare in discorsi che ovviamente non conosci però voglio dire dispiace vedere un collega in questa situazione una squadra oltretutto prima in classifica è che in questo fine settimana addirittura va a giocarsi la Coppa Italia a gioia del Colle ma sicuramente non posso sapere quelli che sono i loro problemi interni perché ovviamente sono cose private riservate quello che posso dire è che per un giocatore che fa sacrifici per otto mesi nove mesi per arrivare a questo mese che è il mese più bello della stagione dove uno si gioca la raccolta di quello che si è similato poi una squadra come loro che è prima in classifica che si gioca a Final Four di Coppa Italia finali probabilmente finali se riusciano a vincere il girone come penso sarà perché sono primi con quattro punti insomma giocarsi playoff per la promozione a due non riuscire a farlo comunque non farlo al massimo delle proprie potenzialità per delle motivazioni esterne al campo sicuramente non è piacevole per i ragazzi fondamentalmente poi io i problemi che hanno in società non li conosco e nemmeno posso mi permetto di giudicare staremo a vedere quello che succederà innanzitutto in bocca al lupo all'Idra Latina che ripetiamo a fronte alla proprio Gioia del Colle nella semifinale di queste Final Four diciamo che l'abbinamento non è poi dei migliori visto che Gioia del Colle oltre ad ospitare la competizione è anche la grande favorita per alzare il trofeo vince ancora Sabaudia 3-1 sul campo del Tor Sapienza anche Sabaudia ha cambiato allenatore nel corso della stagione però arriva una salvezza tranquilla veniamo invece alla Giovogli Aprilia 3-0 Tonino alla Castelvetrano un 3-0 rotondo un terzo posto in classifica e soprattutto una gara da recuperare quella di dopodomani in casa del Casal De Pazzi 3 partite 4 per voi mancano 4 punti e saranno playoff sì mancano ancora punti la nostra filosofia la nostra filosofia da allenatori ovviamente è quella di vincere tutte quante le gare ma non per altro perché se una squadra vuole ambire a qualcosa di importante deve comunque vincere tutte le gare che rimangono da qui a fine campionato perché poi i playoff saranno un altro campionato un campionato nel campionato domenica sono stato contento per la prestazione mentale delle mie ragazze perché incontrare l'ultima in classifica facile dal punto di vista tecnico difficile dal punto di vista mentale tant'è che il terzo set siamo andati un pochino oltre quelli che erano i punteggi canonici altra nota importante è stato il ritorno di Roberta Borelli che veniva da più di due mesi di stop per un infortunio al crociato e quindi un giocatore che mi ha fatto un pochino respirare aspettiamo Martina Kranner l'altro martello infortunato al menisco speriamo di riaverla subito dopo Pasqua così da andarci a giocare le ultime tre gare più eventuali playoff con la Rosel completo se la Giovanni dovesse raggiungere i playoff da una posizione di privilegio sei stato bravissimo secondo me a mascherare tutti questi problemi di infortuni perché mi sembra che la prima in classifica magari anche Mestina sarebbe stata irraggiungibile anche con una formazione al completo non si può mai dire quindi arrivare ai playoff magari con il secondo o terzo posto con tutti questi infortuni penso che vi possa dare anche adrenalina per i playoff sì indubbiamente sì io devo fare sempre i complimenti alle ragazze perché poi sono loro le prime artefici che vanno in campo ai miei collaboratori che mi danno una mano negli allenamenti come sparring e alle ragazze esterne anche che vengono a darci una mano e quindi un pochino a tutti quanti queste persone fare i complimenti ragazze sono in questo momento consapevoli che in una situazione del genere quindi nella difficoltà si riescono ad ottenere questi risultati se poi la squadra ritorna brillante con tutte le forze con tutte le giocatrici la consapevolezza sale l'autostima sale ancora di più e quindi potrebbe essere un finale di stagione veramente interessante quanto questo recupero di dopodomani ha cambiato il tuo programma di allenamenti? ma diciamo che sono stato fortunato nel senso che grazie alle ragazze del volerò che sono andate ai mondiali complimenti medaglia d'argento infatti volevo fare i complimenti alle ragazze al tecnico Luca Cristofani che hanno raggiunto un risultato meraviglioso la medaglia d'argento agli europei ha fatto sì che io recuperassi un giocatore come Roberta Borelli quindi mi ha dato diciamo così nella sfortuna sono stato un pezzettino fortunato anche perché poi lo spostamento era diciamo d'ufficio visto che comunque le ragazze erano chiamate dalla nazionale il successo di domenica scorsa contro Castelvetrano ha sicuramente dato un impulso importante adesso dopo Casale De Pazzi ci racconti un po' quale sarà il cammino nelle ultime tre gare Donino dopo Casale c'è la Pasqua quindi c'è un bel riposo ho dato già il programma alle ragazze di riposo venerdì sabato domenica e lunedì hanno bisogno adesso di rifiatare sarà solo una piccola seduta pesi venerdì mattina e poi avranno questi tre giorni e mezzo di recupero sia fisico che mentale in questo momento tutti e due gli aspetti devono essere curati sia quello fisico che quello mentale poi avremo un tour de force importante avremo in casa uno scontro diretto contro una delle squadre che è in lotta per i playoff poi dovremo andare a Maglie a giocarci anche lì un altro scontro diretto perché Maglie fino ad ora è seconda in classifica mentre Montella la squadra che incontreremo subito dopo Pasqua in casa è a pari punti con noi e poi l'ultima di campionato andremo ad Altino Campostico squadra che non deve dire più nulla è nel limbo praticamente quindi una squadra che ha sempre onorato il campo sempre giocato bene la sorpresa tra virgolette del campionato una squadra che gioca molto molto bene a pallavolo quindi sarà un'altra partita dura da combattere da lottare la giovole si distingue anche nel sociale ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri telegiornali e faccio partire le immagini perché ovviamente è bello vincere sul campo ma è bello vincere anche fuori e non è questa assolutamente retorica ad esempio c'è stato il calendario della dopovole latina che sicuramente ha aiutato persone associazioni che avevano davvero bisogno di sostentamento allora sono state consegnate delle uova di Pasqua ai bimbi del bambino Gesù ci racconti questa giornata speciale e ti ringraziamo anche per queste immagini che testimoniano un momento davvero credo anche emozionante e di riflessione molto emozionante adesso qui c'è la palleggiatrice nono ragatto che praticamente sta sperimentando questo macchinario dove i bimbi che hanno delle problematiche di coordinazione agli arti superiori in questo caso devono praticamente attraverso dei giochi muovere questo macchinario che li aiuta a ritrovare tutte quante le loro funzioni quest'altro invece è un robot nel vero senso della parola il bambino viene imbragato a 360 gradi dentro quel macchinario attraverso dei movimenti computerizzati viene indotto a dei movimenti indotti dal computer proprio per ritrovare tutte quante le funzionalità e una giornata bellissima tra l'altro voglio ringraziare la responsabile del progetto della nostra associazione qui è Santa Marinella è il bambino Gesù di Santa Marinella il bambino Gesù di Santa Marinella abbiamo incontrato questi 30 bambini che ci hanno riempito il cuore di gioia noi abbiamo portato un sorriso al bambino dandogli le uova di Pasqua un uovo che per noi può sembrare una cosa banale ma quando abbiamo consegnato queste uova proprio nei loro occhi è venuta fuori una gioia immensa non solo quello del del dono delle uova ma proprio il contatto con delle persone diverse il contatto con persone che magari non hanno mai mai visto gli ha portato una mezza giornata di felicità una mezza giornata di sorrisi la presenza di Giada De Blanc la presenza di Giada De Blanc Giada De Blanc è una delle è la madrina praticamente della nostra associazione culturale una associata Giovolle una tesserata Giovolle l'associazione socio-culturale della Giovolle Aprilia si freggia di due nomi importanti una è Federica De Rosa la responsabile diretta dei nostri progetti sociali mentre poi per la cultura abbiamo il professor Sergio Tresca che fa tutta quanta la parte culturale Giada De Blanc è la madrina di questi progetti la nostra testimonial e quindi porta in giro per tutta Italia il nome Giovolle nella parte culturale e anche questo ovviamente serve nella B2 femminile brutto weekend ha perso Minturno ha perso Sant'Elia ha perso Cisterna alta squadra della Cisterna 88 che retrocede in Serie C e ha perso Sabaudia con la retrocessione di Danunziana Pescara e di Cisterna con il Santeria ormai al sicuro l'ultimo posto per scendere in Cisolo giocheranno proprio Sabaudia e Minturno e se non sbaglio alla ripresa del campionato c'è proprio lo scontro diretto a Sabaudia eh quella è una bella partita credo fra due settimane sì da andare a vedere bisogna vedere però nel turno prima quello che succederà sì Sabaudia tra l'altro ha giocato una partita fuori casa contro Bari mi sembra non facile ha perso sì 3 a 0 ma con dei parziali molto 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 alti quindi questo denota il fatto che c'è un buon lavoro dietro anche perché la squadra di Sabaudia è una squadra formata da tutte giovani quindi arrivare sempre con punteggi alti contro squadre molto esperte quelle del sud tra l'altro sono squadre imbottite di begli elementi elementi di grande esperienza in questo momento molto probabilmente c'è una piccola iniezione di fiducia in più verso Sabaudia la quale ha battuto anche Sant'Elia in uno scontro importante per Sabaudia per continuare così a sognare nel discorso salvezza staremo a vedere quello che succederà appunto tra Sabaudia e Minturo ripeto una di queste due scenderà in serie C accompagnando Danunziana Pescara e il Cisterna siamo davvero in chiusura panoramica consueta con la la pallavolo regionale partiamo dalla serie C femminile con Lazio TV Futura della Cina che ha osservato un turno di riposo dal momento che c'è stato il ritiro del Pomezia Rieti ha battuto la Virtus Roma 3 a 1 il campionato dice che quando mancano tre giornate al termine Lazio TV Futura della Cina ha cinque punti di vantaggio sul Rieti e dopo Pasqua arriverà la sfida il primo match point per Lazio TV Futura della Cina alla quale mancano due punti nelle prossime tre gare due punti nelle prossime tre gare si comincia con la trasferta di Roma con il Talete quindi il 23 domenica 23 alle 19 primo match point a Roma Talete contro Lazio TV Futura Terracina per quanto riguarda la C femminile qualche problema di organico per il Fondi che ha perso 3 a 0 sul campo del Quintiglia mancava anche la Suarez Fondi che comunque è certa dei playoff arriverà tra la terza e la quarta posizione ed è un peccato perché magari Fondi per molte giornate è stata anche al comando della classifica la Vole Terracina ha vinto 3 a 0 in trasferta sul campo del Nautilus e ora 5 punti di ritardo dalla zona playoff diciamo che con tre giornate al termine servirebbe il pieno e qualche risultato concomitante perde Londavolle e Anzio sconfitta anche Ferentino che retrocede nel campionato di serie di ultime tre giornate Tonino di questi due campionati Savastano che va ai playoff mentre Leonardo ha il suo primo match point consigli a Massimiliano che tu conosci bene vi sentite spesso perché poi un conto è stare in testa all'inizio del campionato dalla prima giornata della serie D ma è un conto adesso vivere davvero un momento importante che ti porti in un campionato nazionale che sarebbe storico per la società sì no consigli non ce ne sono anche perché come vivere queste due settimane ma io credo che lui le vivrà come sempre ha vissuto queste ultime giornate le ragazze sono consapevoli del prestigioso traguardo che hanno a disposizione quindi già sono cariche di loro posso dare un consiglio ma lui già lo sa sicuramente è quello di non sovraccaricare di pressione l'ambiente sono le classiche che si preparano da sola ma sì sono partite già belle pre-confezionate quindi non voglio dire nulla perché magari ci potrebbe essere la scaramanzia quindi faccio l'imbocca al lupo al mio amico Leonardo così come lo faccio al mio amico Sebastiano Savastano così come lo faccio al mio amico Carmine Pesce a cui auguro di raggiungere i playoff così avrò tre amici il prossimo anno magari in Serie B bene chiudiamo con la C Maschile dove la Toppo Volley Latina rimette in gioco un po' il piazzamento per i playoff perché perde sul campo della Lazio 3-1 e la squadra di Ferragnoli è adesso al quinto posto insieme alla Polesportiva Roma 7 e alla Serapo Gaeta che invece battendo Montelodondo 3-1 rientra in gioco per i playoff dunque dal quarto posto dello Zagarolo con 45 punti ai 42 punti di Roma 7 Toppo Volley e Serapo tutto è possibile per raggiungere i playoff occhio anche al Fiumicino che di punti ne ha 39 mentre lo Zagarolo ha superato il Pomezia 3-1 nell'altro girone Ripi sconfitta 3-0 sul campo della Seat mentre il Velletti ha battuto il Roma Sporting City con il punteggio di 3-1 è davvero tutto per questa edizione di Spazio Volley noi ci rivedremo martedì 25 di aprile per commentare quello che sarà successo nei campionati nazionali e regionali io ringrazio saluto non so se dirti arrivederci Matteo buona scelta grazie mettiamola così buona scelta dovunque tu andrai sei un ragazzo che riesce ad avere le idee chiare lo ha capito anche Tolino in questi pochi minuti nei quali ti è stato vicino quindi davvero in bocca al lupo per la tua prossima scelta Tolino un abbraccio in bocca al lupo anche a te per dopo domani e per il proseguo della stagione ovviamente ci rivedremo grazie a voi per averci seguito mi raccomando martedì 25 aprile buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.